Il PSR è un programma di investimento rurale, è una legge agevolativa della regione Campania e della comunità europea per dar modo agli agricoltori di sviluppare le proprie imprese. Io ho fatto delle strutture sericole molto innovative, oltre ad avere degli impianti di irrigazione particolari ho creato delle strutture tali per andare al meglio con le nostre produzioni. Come contributo ho avuto il 40% a fondo perduto. I benefici rispetto alla mia impresa è sicuramente una crescita più veloce rispetto all'andamento normale di un'impresa con questi contributi agevolati. Avrei sicuramente realizzato l'investimento senza contributo, però avrei impiegato sicuramente molto più tempo rispetto a quello che ho impiegato. Le difficoltà che ho incontrato sul PSR sono più legate alle tempistiche, sia le tempistiche per arrivare al bando che le tempistiche poi per essere erogati i finanziamenti. Grazie al cofinanziamento europeo e Regione Campania del PSR ho realizzato delle strutture sericole molto innovative, ad hoc per il nostro comparto. Il messaggio che voglio mangiare ai giovani è che l'agricoltura è un comparto positivo nel quale bisogna credere ed investire e la cosa più importante ad oggi è innovare sempre di più nei processi e nei prodotti.